Siamo tornati su YouTube, non ci credo! Dopo quanto? Dopo due anni, quando i tempi c'erano ancora, i capelli di Peppe! Un saluto ai capelli di Peppe! Siamo nasati, non sono quell'altro, se ne sei, allora scusa tu! Spero siamo tornati! Oltre al fatto quindi che ho perso i capelli, come vedete siamo cambiati, non siamo più gli stessi, o meglio, in parte! Non siamo più gli stessi perché abbiamo fatto un viaggio mistico, dove siamo stati? Io sono stato in Thailandia, in India! Aspetta, presentiamoci! Ciao, io sono Swan! Ciao, io sono Davide! Ciao, io sono Giorgio! Ci stanno parlando per il culo da lontano! Sto pezzo lo tagliamo sicuramente! No, allora! Ciao, io sono Omak! Innanzitutto, lui è quello che si occuperà di tutti i video, quindi se vengono una merda è colpa sua, non colpa dei nostri tic! 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 Quindi in commento sotto se volete che vada via! In commento sotto se volete che vada via! In iniziato, già ce ne andiamo! Che cazzo di video? Comunque, che dovevamo dire? Persi ragazzi! Manu, suggerimenti! Allora, aspetta, innanzitutto guarda... Io guardo... Cioè, guarda come ho messo il video make me a camera, con il controllo davanti! Sì, non hai visto! Ah, è vero! Vabbè! Sì, innanzitutto, cosa facciamo? Facciamo calcio freestyle, che è questa cosa qui! Si vede? Oh! It's amazing man! It's our time! Animalier! Oh! 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 EM�! Oh, inizialio di San Carlo possiamo anche usare i Trikysiped! Erónio, inizialio non ci siamo... Prima challenge! Da qua, alla avanti e indietro. Facciamo, la facciamo così! E stiamo riprendendo il �isило Oh, Gi Gosh, hai si��ati pelizzi Dietro, dietro, e dietro! Andiamo a ricominciare Allora, innanzitutto Abbiamo fatto vedere cos'è il calcio freestyle Che già si sa Noi chi siamo? Chi siamo? Ci presentiamo Dav Dav Maradona Dav Fast Food Lui Devo dire il mio nome È brutto Esatto Come ti chiami? Ciao ragazzi Mi chiamo Swan Vengo da Trieste E faccio il calcio freestyle Bravo Non vi dico l'età perché la tagliamo Sono un po' il vecchiaccio della situazione E il mio Instagram è Su Up Fast Food Alla mia sinistra Cioè, facciamo una presentazione tipo a tendina 3, 2, 1 Ciao Allora, città Creva il cuore Dove vivi ora? Milano La tua specialità? Videomaker Videomaker Ok, saltato E vi presento Il mago del freestyle Detto Omag E ci spiegheresti Perché ti chiami Omag Quindi il mago sia di freestyle che è mago in generale Nel prossimo video vedrete qualche magia Qualche magia, qualche magia legata al freestyle Quindi Ah, ragazzi Manca Anastasia Siamo dimensi Facciamo una presentazione virtuale 16 anni Da Latina Primo mondiale è arrivata Quinta Cioè, ragazzi Io Se fossi in voi Iniziere ad allenarti Perché c'è una ragazza Chi vi rompe Il culo E vi faccio mandare un saluto da un'altra volta Ciao ragazzi Come va? Un saluto da Anastasia Ok, le novità Ma salutiamo Aspetta Dobbiamo salutare Anto, Dario e Fed Che non fanno più parte della crew Bella raga Un saluto a tutti Ciao ragazzi Ci sono tante novità Tanti nuovi video Tante nuove challenge Tutoriale di sweet soccer Tutoriale del calcio freestyle Vlog sui nostri tour In giro per il mondo E molto altro Perché se no, scusate Ragazzi, diciamo tutto Esatto A piano piano sforniamo dei video Quindi qua, tagliate Un assaggio Cioè, un Oh, ma cosa Io tra poco vado, ragazzi Vieni a salutare Vieni a salutare Vieni a salutare Vieni a salutare Abbiamo un fan È arrivato il primo fan Poi no, non ho portato il portiere Vieni a salutare Vieni a salutare Sì, vieni a salutare Sì, vieni a salutare Sì, vieni a salutare Sì, vieni a salutare Ciao ragazzi Ciao Vieni a prendere il treno Così, lo saluto Boh, raga Dovevo andare Dovevo andare Raga, io devo andare Mezz'ora c'è il treno Quindi dovevo andare Mezz'ora Dove vai? Vado a Roma Che ho dei corsi di freestyle E lunedì? Lunedì, sarò a Napoli Con Puma Nei centri federali Ok, faremo delle lezioni Ok, io domani Vado a fare uno show Torino Tapu Io domani Sto a casa fam***a E lui monterà questo video Non è pronto Entro 24 ore Yemenamo È inutile parlare oltre E è arrivato il momento Di andarci Andiamo Un saluto da Swan Ciao raga Ciao raga Un saluto da Omac Bella raga Fastfoot Crew Brutto saluto Nella storia dei video Boh, vabbè Io che sento Un saluto da